siamo di nuovo qui la versione di penelope continuiamo questa diretta dai giardini della casa valdese e sono qui adesso con un altro ospite che vi presento subito sono con gabriele bertin pastore valdese ciao grazie mille ciao grazie a te a voi del dell'invito grazie ti ho invitato perché non sei solo pastore valdese anche scritto un libro edito da claudiana che ho proprio qui mosè mito di un uomo racconto di un maschio in cui affronti molto il tema della maschilità mascolinità ovviamente anche il rapporto alla teologia ma anche proprio come questo povere ripercussioni sulla nostra società il modo in cui raccontiamo il maschile sì allora questo libro in realtà nasce come il progetto di tesi di laurea è stata la mia laurea specialistica alla facoltà di teologia ed è nata un po come una sfida in realtà perché io volevo fare un lavoro sull'antico testamento ma anche sulle teologie di genere che sono molto legato alle teologie femministe alle teologie lgbt e però sentivo anche da un certo punto di vista la l'interesse verso questa riflessione sul maschile che è nata leggendo libri non di teologia libri altri e ho ho pensato che poteva essere una una sfida ma anche un'occasione provare a mettere insieme queste due parti cioè la riflessione sul maschile e allo stesso tempo anche la riflessione teologica sul maschile partendo in realtà dalla critica che è stata fatta negli anni dal dei femminismi al fatto che il maschile è sempre stato pensato come unico cioè come unico e soprattutto come neutro cioè tutto il mondo è stato pensato al maschile la teologia la storia l'economia e allora da questa critica accoglierla riconoscere invece la parzialità della visione maschile e provare a fare un discorso che fosse allo stesso tempo un po più sociale politico ma anche di fede e teologico e quindi appunto rileggere alcune pagine bibliche in particolare quelle di legate a un personaggio biblico che era Mosè con i criteri di studio della maschilità che sono stati sviluppati nell'università e nell'ambito soprattutto dei main studies quindi questo ramo specifico dei gender studies una domanda che mi sorge spontanea come mai proprio Mosè? ogni tanto me lo chiedo anche io nel senso che in realtà è nato attraverso un colloquio con un docente alla facoltà di Parigi dove ho studiato il mio ultimo anno di università di teologia e in origine avrei voluto fare un lavoro sulla maschilità nella biblica e mi ha detto giustamente è troppo grosso per una tese allora mi ha detto perché non pensi a un personaggio nello specifico e subito avevo pensato a Davide il re Davide e lui invece mi disse ma anche Mosè ha un... può essere letto da questo punto di vista perché è un personaggio che nel corso della storia ha tante relazioni con altri soggetti maschili ad esempio e in fondo quasi tutti i primi cinque libri della Bibbia raccontano la vita di Mosè dall'Esodo fino al Deuteronomio che sono i primi quattro libri il primo è la Genesi però nella Genesi Mosè non c'è quegli altri quattro è pezzi della storia di Mosè ed è bello vedere come in questi pezzi Mosè anche cambi in un certo senso in base alle persone con cui si relaziona e anche perché Mosè è poi stato una sorta di modello di uomo scelto e che si relaziona con Dio poi per tutto l'Antico Testamento allora anche vedere come quel modello anche di maschilità poi abbia delle ripercussioni sull'oggi anche sul modo in cui magari la maschilità è vissuta fuori dentro anche poi le chiese o l'aspetto della fede anche un po' sui ruoli che vengono costruiti su questi modelli una cosa che ho visto prima spogliando un po' il libro è che hai scritto la differenza tra maschilità e mascolinità sì, sì, che in questo momento non ricordo forse benissimo però perché credo che sia anche una cosa importante fare attenzione al linguaggio che viene usato nel senso che la mascolinità viene spesso legata molto a delle caratteristiche fisiche o di comportamento del soggetto invece la maschilità comprende anche, credo anche dalla riflessione che ho fatto una serie anche di attese e di appunto creazione di stereotipi, di modelli, di gerarchie anche di potere legate a un determinato genere piuttosto che a un altro per questo che ho scelto più la parola maschilità perché credo che implichi un aspetto relazionale che è la chiave poi alla fine per il lavoro sul genere cioè capire in che modo ci si relaziona e in che modo ci si relaziona anche tra generi perché poi per me è stata quella la scoperta cioè vedere come la maschilità non sia un monolite, non sia una come magari ci è stato insegnato, è stato rappresentato nell'arte, nella storia ma siano tante diverse maschilità che variano anche in base all'altro soggetto con cui ci si relaziona credo che sia sempre più importante fare queste riflessioni sul maschile perché i movimenti femministi la fanno da tantissimo tempo si è lavorato tanto, si è costruito tantissimo invece il maschile è ancora molto acerbo su questo quindi fare queste riflessioni è importante, sicuramente è un inizio sì, io credo che sia da un lato importante e dall'altro urgente perché la mia impressione è sempre che con tanta fatica si fanno dei passi in avanti e con facilità si ritorna indietro in un niente e poi io credo anche che veramente sia importante come maschi rendersi conto della diversità di maschilità, della diversità, del modo di essere uomini nelle relazioni ma anche nelle chiese in particolare, quello che a me anche interessa tanto e renderci conto anche quello che veniva detto ieri alla serata pubblica del sindaco come gli aspetti di violenza, di discriminazione siano sempre comunque presenti anche quando magari non ce ne accorgiamo come può essere anche dal modo con cui uno parla un modo con cui uno usa determinati linguaggi rispetto ad altri un certo modo di leggere, appunto da pastore dico anche questo di leggere le scritture e invece che farci cambiare da un certo modo che viene proposto magari avvalorarlo ulteriormente o magari cadere anche in questa dinamica del binarismo facile la donna in un certo modo e il maschile in un altro anche la maschilità di Gesù che può essere diversa però poi si rischia di rileggela con le stesse categorie allora io penso che è stato tanto decostruito c'è ancora tanto da decostruire c'è tanto tanto da imparare perché io penso che quello, il grosso che i movimenti femministici lasciano è questa critica appunto del parziale, del maschile che non è tutto ma soprattutto la necessità di partire da sé di avere il coraggio, di raccontarsi e di non avere paura di non corrispondere al modello che ci è stato proposto, reiterato in mille modi e che forse viene riproposto facilmente perché poi è quello più facile è facile essere il padre padrone, il maschio che non deve chiedere è più difficile fare conti con la propria fragilità con le proprie insicurezze e anche con le proprie, non saprei come chiamarle malleabilità c'è anche nell'ambito del rapporto col corpo con l'affettività infatti questo è anche un altro aspetto che a me interessa tanto l'aspetto ad esempio anche dell'omofobia come il fatto che un maschio possa avere un'attrazione per un altro maschio lo rende automaticamente non maschio perché il maschio deve essere automaticamente e invece quello è stato ciò che poi ha permesso agli studi sulla maschilità di andare avanti perché è successo esattamente come nel femminismo erano i maschi bianchi che riflettevano poi sono arrivati i maschi omosessuali a dire ok noi siamo bianchi ad esempio ma abbiamo un'affettività diversa ma non siamo meno maschi e poi sempre di più più si scende nel dettaglio di un'identità più ci si rende conto di quanto questa è ricca e di quanto è ricco il modo di leggerla e si può essere maschi in varie sfumature diverse e penso che un lavoro come il tuo che porta queste riflessioni anche in ambito teologico sia molto importante pensando anche al fatto che molte volte poi ci si aggrappa a questi modelli considerati tradizionali magari giustificandoli anche attraverso la lettura in un certo modo della Bibbia, dell'Antico Testamento eccetera quindi rileggerli, vederli anche da un altro punto di vista è sicuramente molto utile Sì poi io penso che appunto io adesso ragiono spesso per parole in un certo senso e io penso che ormai adesso anche guardando al lavoro che fanno le giovani generazioni che su questo sono anni luce avanti a me e sono quindi anni luce avanti a persone che possono avere l'età dei miei genitori ci sono parole che ormai sono imprescindibili dal discorso del genere quali ad esempio il privilegio l'intersezionalità quindi il fatto di leggere le cose non in maniera semplice ma rendersi conto della complessità delle cose della complessità degli individui e io credo che questo sia necessario per poter costruire spazi collettivi che siano collettivi politici che siano chiese che siano gruppi di amici che vanno in montagna ma che siano luoghi sicuri dove la gente può essere chi è senza timore di non corrispondere senza timore poi di subire magari qualsiasi tipo di violenza da quella fisica da psicologica quella verbale e io veramente vedendo alla situazione attuale della nostra società credo che sia veramente veramente urgente e quando ho pensato a questa tesi ho proprio pensato c'è tanto lavoro sociale politico e dove è l'aspetto teologico dove è l'aspetto di fede cioè in che modo questa influenza il nostro modo di essere maschi nelle chiese nelle relazioni che intessiamo con le altre persone che vengono nelle comunità e c'è tanto lavoro veramente da fare e ti ringrazio davvero tantissimo per averci raccontato tutto questo è stato davvero molto interessante e quindi se qualcuno è interessato al libro lo trovate alla Claudiana Mosè, mito di un uomo racconta di un maschio di Gabriele Bertini ti ringrazio ancora tantissimo grazie mille a te e a voi dell'invito davvero grazie mille a te